Perchè non fare di questo giorno un giorno splendido, partendo col piede giusto e mettendoti in contatto con me fin dal momento del risveglio? Perchè non colmare il tuo cuore di amore e gratitudine in vista di una giornata che l'attesa di quanto vi è di meglio e di più elevato riempirà? Quando i primissimi momenti di un nuovo giorno sono gioiosi e ti elevano, scoprirai che la stessa cosa accadrà anche per i successivi e, a mano a mano che scorrono le ore, vedrai che la gioia e la pace ti seguiranno nel corso dell'intera giornata. Quando ti svegli con la mente oppressa da un peso, sentendoti abbattuto e depresso, se non reagisci ti puoi portare dietro questo stato per tutta la giornata. Servimi per trovare la perfetta pace del cuore e della mente, che giungerà dopo aver scaricato su di me tutte le noie e le preoccupazioni, e quando il tuo solo desiderio sarà fare la mia volontà e camminare lungo i miei sentieri. Grazie 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 Grazie